Allora andiamo veloci con le presentazioni perché dobbiamo tenerli in meno possibile là in alto al caldo, vai! E certo, e allora G3, Cristian Brambilla, Elì, ciclisti colgiatese, Elì Alberto Pescantina, Liam Fusari Verona, Pietro Crosara Pescantina, Tommaso, Negro, Creazzo, Nicolò, Morello, Panterboy, Spadova, Mattia, Belizza, Creazzo, Nicolò, Giacobuzzi, Verona. Verona, pronti a partenza. Anche qui, grande lotta a partenza, tutti appagliati, vediamo Verona davanti. Per il Creazzo che riesce a chiudere per primo la curva con azioni. Attenzione all'interno, all'interno Creazzo. Ci prova, ma Verona tiene salda la prima posizione ancora in terza posizione, Pescantina e leader di circuito in quarta posizione. Grande arrivo!